Preparo tipo una specie di mini intro di, boh, tipo 40 secondi, in cui faccio... Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo nuovo Best Moments, questa volta delle clip di agosto e di settembre, ovviamente registrate con le live sulla piattaforma Viola. Per questo vi ricordo di andare a seguirmi lì, Mattex Unstable, M ed U maiuscole. Tra l'altro abbiamo iniziato anche a registrare in live la carriera con l'allenatore con il Venezia su FIFA 22, quindi non perdetevi assolutamente nulla, qui vi invito a recuperarvi il video di sabato con il Venezia, iniziata la nostra carriera, iniziato una nuova avventura, iniziato soprattutto FIFA 22. Quest'anno porteremo davvero tante tante cose, tutte che però registreremo in live. Purtroppo, per fortuna, questo lo farò a decidere a voi, io ho preso questa decisione perché ho troppi impegni lavorativi ed universitari da far coincidere e il farle live è l'unico momento che riesco a ritagliarmi per poter registrare anche dei video. Quindi sul secondo canale trovate tutto il Let's Play di Days Gone, qui troverete ovviamente la carriera in allenatore, troverete anche delle challenge con la carriera in allenatore, ma di questo poi ne parleremo più avanti. Vi invito ovviamente a seguirmi in live sulla piattaforma Viola, vi lascio alle clip, mi raccomando, iscrivetevi al canale con la noma se non è ancora fatto, lasciate un mi piace al video se poi vi sarà piaciuto. Noi ci vediamo al fondo di questo video per una piccola cosuccia, a dopo. Le potenziali reclute sono carenti. Le potenziali reclute sono carenti. Bene. Pronto? Grazie Tom. Ma sì, certo. Dai, sono gasato. Anche io dopo che mi... Cazzo, non... No, dico sul serio, non eravamo esattamente benvenuti all'Ostleic. Ehi, piano. Help me, daddy. I'm stuck. Oh mio Dio. Grazie, meccano. Il giorno 9 sostiene il Mattexone con un bizzo. Di quest'anno ti manca darmi il colo e... Dai, 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 dai. Plei... Ma come e plie? Così è? Sì è f***o. Aspetti, dirigente, aspetti. Ci dica qualcosa, signor dirigente del Venezia. Quali sono le sue dichiarazioni? Noi ragazzi penso di finire questa parte qui E poi E poi non vi dico cosa faccio Ho appena letto un dio canaglia Una bican famous I'm already famous I'm already famous Thank you Thank you Va bene va bene Tipo mamma che Sente se hai la febbre con la mano sulla front Ti la faccio con il bibo sulla front Non ho munizioni però Secondo me la chiamano anche boomer Oh cristo Via 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 Gravissima Ma siete matti Ma qua ti so Ciao Saluti e baci Cosa ti faccio? Tu mi butti giù Cesso Porco Gesù Master Matteus 69 sostiene il mattexone con un biz Grazie Immagina dei vecchi sburrare sui nostri piedi con il loro latte bello caldo appena munto da vecchie palle grinzose No No che schifo ti prego Lo sentite questo? E l'odore della Champions League Che buono Altra cazzata Adesso non stanno dalla parte di nessuno E il mondo L'hanno già conquistato Adesso ovviamente ci sono già passati Ma io voglio capire No Sono morto Adesso madonna quanto ti stava dando conto Io ero lì a guardarmi la situa Mattex sei vicino? Con i video della tua finale Champions tutto volume Ma no Guarda come mi vuoi trollare Mi vuoi far star male Che nessuno mi Oh aga Ah la mia idea è questa La mia idea è questa Marsella metan breakable Oh già Però il soprano a me che ci avevano dato era Oh No non era oh Era Non posso Dai Eh no non mi Solo se è necessario Mattex 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 Anche sei arrivato con Master Com'è sei arrivato con Master? Mattex Mattex Ma 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 che cazzo Ma C'è un problema Non ti ha preso Si può stare Si può stare Master Master Matteus 69 sostiene il Mattexone con un beat Caricale sul sito a ragione Master Master Matteus 69 si è appena abbonato Una ora intanto Dieci mesi Mi sta bruciando il No No signori Signori si scherza Si scherza E Stipendio 6.000 euro 75 di bonus Dai Ma come ridicola Perché sono gelosi Invidiosi Perché Ma No Devo aprire una roba Ma no Ma no Ma ecco Quindi Tu giocheresti Cioè Giocherai Mi sento all'ovaio Non vi devo raccontare una cosa E spero che Twitch non mi vanni Però ve la devo troppo raccontare in live Ieri ero con Lowa Stavamo giocando Cioè io stavo giocando a Fortnite E lui stava guardando un film E fa In sto film C'è uno che sembra Don Gino In versione vecchia E rapisce i bambini Io gli faccio Ma come Come guardi i film In cui rapiscono i bambini Lui Eh sì È un po' così Il film Ma Lo guardo lo stesso Ovviamente non detto in questa maniera E E gli faccio Ah beh dai ma Come si chiama il film E lui Succhiacazzi Oh mio Dio Sì 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 E fa Sì sì Ma è un Gino vecchio E ma Bellissimo Master come lo chiamerai il tuo figlio? Io easy Tommaso Mi serve una mano per togliere quell'affare Ho figlia anche sì Accidente Ma che diamine Figlia per me Quello È un sigillo È un Segnale di avvertimento Riusciamo a vincerne una di oggi? Ok l'ho visto Qui ci sono altri mille scendini È lì eh 37 37 37 Arrivo No ti prego Ti prego Non potrebbe essere Quello Inizio a mandarti il tronco Anche con elisi Se vuoi Vabbè no Non capito adesso Andiamo a Scobare Andiamo a Lago dai No Dio Credo in te Aiutami tu Affan Cuore devi andare tu Questia bestia Quanti sono Io questi non me li levo più C'ho paura C'ho paura degli zombie C'ho paura C'ho paura degli zombie Sono un uomo inocente Non voglio grane Scappo dagli zombie Per guadagnarmi il pane Quanti sono Via Per quelli arrivati fin qui Ovviamente vi ringrazio per aver visto tutto il video Vi ricordo di seguirmi in live Per non perdervi altri momenti Del genere e per non perdere ovviamente Tutti i collegamenti tra i vari meme Che succedono e cose eccetera eccetera Trovate tutti i link qui sotto in descrizione Mi raccomando supportate il canale In tutte le maniere possibili Ovviamente vi invito al prossimo video A commentare qui sotto con il vostro momento preferito di questo best moment Con la vostra clip preferita Prima di lasciarci tengo a ringraziare anche ovviamente in primis i moderatori Per tutto ciò che stanno facendo in questo periodo Tra il supporto in live Il creare le clip Fare cose eccetera eccetera Quindi Le avrò tante 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 grazie E tra l'altro ringrazio ovviamente anche i nuovi sub September è passato Vi ricordo però che i prezzi di Twitch Si sono abbassati Quindi potete trovare ovviamente l'abbonamento a un prezzo minore Con Amazon Prime avete l'abbonamento Gratuito E potete supportarmi ovviamente in maniera totalmente gratuita Oppure anche con i bittini Tra l'altro vi ricordo che c'è il bot che dice cose Se donate bittini o vi abbonate Quindi Vi lascio ovviamente alle live Vi lascio a tutto quello che è del canale Sia qui che nel canale Viola E vi ricordo che chi non segue il Mattexone È solo Perché sono gelosi Invidiosi Invidiosi